151 pazienti positivi al SARS-CoV-2 in provincia. L'aggiornamento dell'Aspenissena del 4 agosto relativo alle 24 ore precedenti parla di 43 pazienti di Caltanissetta, 32 di Gela, 16 di Niscemi, 16 di Riesi, 11 di Mazzarino, 9 di San Cataldo, 8 di Butera, 4 di Sommatino, 4 di Delia, 2 di Mussomeli, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Accoviva Platani, 1 di Milena, 1 di Sutera e 1 di Villalba. Tutti in isolamento domiciliare. Un solo ricovero in degenza ordinaria di un paziente di Caltanissetta, 2 invece le dimissioni dallo stesso reparto di un paziente di Riesi e uno proveniente da fuori provincia. Deceduto un paziente di Gela. Guariti dal Covid-19 48 pazienti di Gela, 32 di Caltanissetta, 13 di Niscemi, 8 di Riesi, 7 di Sommatino, 5 di Mazzarino, 5 di Mussomeli, 4 di San Cataldo, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Milena, 1 di Butera. Uno di Delia, 1 di Montedoro e 1 di Vallelunga-Prata-Meno. In tutta Italia sono 42.976 nuovi casi, secondo il bollettino del 4 agosto scaricabile dal sito tematico del Ministero della Salute dedicato al Covid-19. Per quanto riguarda la Sicilia, il dato dell'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente è pari a 3.498 casi.